Buongiorno, in occasione della mostra la scapigliatura una generazione contro che è attualmente aperta Palazzo delle Paure a Lecco, avevamo pensato di organizzare proprio in palazzo una serie di tre conferenze che raccontassero la storia e l'evoluzione di questo straordinario movimento. Purtroppo, per i motivi che ben conosciamo, non c'è possibile svolgerle dal vivo e così abbiamo deciso di realizzarle ugualmente in questo formato online. La prima di questi incontri in realtà si è svolta dal vero, ma data l'esigua presenza di persone dovute al contingentamento dello spazio, abbiamo pensato comunque di rifarla online per renderla più diffusa e diciamo visibile a più persone. Ovviamente per quanto mi riguarda non sarà assolutamente la stessa cosa, il coinvolgimento personale di una conferenza svolta in presenza è completamente diverso e forse anche per voi non sarà esattamente come partecipare a un incontro dal vero. Ma tant'è, questa è la situazione, quindi facciamo di necessità virtù e procediamo in questo modo. Realizzeremo in questa maniera, quindi a video, anche il secondo incontro, quello che avrebbe dovuto essere a due voci e sarà a due voci con me, che sono Simona Bartolena, la curatrice della mostra e sarò la vostra narratrice in tutti e tre questi incontri, e Alessandro Pazzi, ottimo attore nonché amico, che ha realizzato anche le audioguide, alcune delle audioguide che accompagnano il percorso in mostra e che spesso mi affianca in serate che noi amiamo definire i dialoghi dell'arte, in cui l'arte e la letteratura si pongono proprio in dialogo l'una con l'altra per rafforzare la visione di un momento storico o di un movimento. Nel caso della scapigliatura, questo incontro a due voci sarà particolarmente importante, perché la scapigliatura sosteneva fermamente la, diciamo, la fratellanza delle arti, le arti sorelle le definivano i letterati scapigliati, ovvero il dialogo serratissimo che esiste tra le diverse discipline culturali e creative. Ma questo tema lo vedremo più avanti, lo vedremo proprio con il secondo incontro che svolgeremo insieme ad Alessandro Pazzi, oggi invece ci dedicheremo come nostro primo incontro alla, diciamo, all'indagine della prima fase del movimento scapigliato alla sua nascita e i suoi importantissimi precursori. Come prima immagine mi sono tenuta questa bellissima giovinetta inglese di Ranzoni che è diventata un po' l'icona della nostra mostra, l'immagine simbolo della nostra mostra in virtù della sua bellezza ma anche del suo profondo significato sulla novità della pittura scapigliata e sulla personalità soprattutto dell'artista che l'ha realizzata, Daniele Ranzoni, di cui parleremo diffusamente in questi nostri incontri. Ma forse è più giusto cominciare il nostro incontro di oggi con un altro dipinto, il ritratto di Cletto Arrighi, realizzato da Tranquillo Cremona che è anche l'opera con cui si apre la mostra di Palazzo delle Paure. Il ritratto di Cletto Arrighi è già un'opera piuttosto matura di Tranquillo Cremona, ha già questo stile tipicamente scapigliato, questo tocco libero che vedremo poi da che cosa deriva e come Tranquillo Cremona arriva alla definizione di un tipo di pittura così innovativo, così diverso, così riconoscibile. Quello che ci importa invece in questo momento è chi è il personaggio ritratto Cletto Arrighi perché a lui, a Carlo Righetti come si chiamava nella realtà, si deve la definizione letteraria da vocabolario del termine scapigliato. Lui utilizza questo termine nell'introduzione a un suo romanzo che si chiama proprio La scapigliatura del 6 febbraio. Alessandro nel prossimo incontro ci leggerà il brano di cui vi sto parlando, vi sto facendo cenno oggi, ma intanto sappiate che in questa introduzione Cletto Arrighi dice che la scapigliatura è un movimento, è un modo di sentire, non è un movimento organizzato, non è un gruppo artistico definito, è un mood, un sentimento che coinvolge classi sociali diverse, classi età diverse, persone molto distanti fra loro ma tutte accomunate da una volontà di essere antiborghesi, di collocarsi contro la società attuale, di collocarsi in qualche modo in contrasto con molti dei cliché, dei canoni, dei benpensantismi, dei modi di comportamento imposti dalla società del tempo, cioè la manifestazione di una classe sociale trasversale potentemente in crisi, perché la scapigliatura nasce, viene generata proprio da uno stato di crisi profondissimo, uno stato di crisi che è dovuto alla delusione portata dall'Unità d'Italia, che non è esattamente come queste persone speravano e si immaginavano poter essere, soprattutto dal punto di vista culturale e sociale, ed è una crisi dovuta anche a un lento ma inesorabile crollo delle idee positiviste, in pittura della pittura del vero, del realismo, che prenderà poi tutta altra definizione, tutta altra coloritura nei decenni a venire, e la scapigliatura paradossalmente anche in pittura ha un piede nel romanticismo di cui è comunque figlia ed erede, ma ha uno sguardo nel futuro. Gli scapigliati sono stati più volte definiti i grandi precursori di movimenti come ad esempio quello futurista, che da loro deve tantissimo, e anche questo lo vedremo meglio nel prossimo incontro con Alessandro, gettando proprio dei fili che vanno dalla prosa soprattutto degli scrittori scapigliati fino a quella poi dei futuristi. Dunque un movimento che è tutt'altro che è relativo a un'area geografica ristretta, quell'aggettivo lombarda che spesso accompagna il titolo scapigliatura è terribile, perché la scapigliatura è lombarda, si è sviluppata fra Piemonte e Lombardia senza ombra di dubbio, ma se lombarda significa qualcosa di ristretto, di provinciale, di chiuso dal punto di vista geografico, ecco questo non è assolutamente vero. La scapigliatura è tutt'altro che un movimento di ambito locale, è un movimento di respiro internazionale che è vissuto per qualche decennio certamente fra Milano, Lombardia e Piemonte, ma che ha guardato all'Europa e che ha portato la cultura italiana e la pittura italiana, l'arte italiana, verso un'apertura decisamente più internazionale. Ma da dove arrivano gli scapigliati? Soprattutto chiaramente oggi parleremo dei pittori e degli scultori scapigliati. Quali sono stati i loro maestri? Un maestro fondamentale, importantissimo, lo troviamo subito nella pittura di Tranquillo Cremona, un maestro dichiarato, perché Cremona non fece mai mistero, della grande passione che lui nutriva per questo pittore. Questo artista è Giovanni Carnovali, detto il piccio. Un artista folgorante nella suo tipo di pittura, perché è un artista che appartiene come generazione ancora alla generazione di Ariets, alla generazione dei romantici. Lui era nato nel 1804, era nato a Montegrino, in Val Travaglia, e aveva vissuto fino al 1873, portando avanti un tipo di pittura che ben difficilmente riusciamo a connotare e a inserire nel suo momento storico. Piccio è un po' una grande anomalia nella scena dell'arte italiana, internazionale. Un artista che ha ancora ampi margini di studio e di definizione, perché noi sappiamo che si formò a Bergamo da Giuseppe Diotti e poi proseguì la propria formazione a Pavia, dove incontrò un pittore che gli fu poi sempre molto amico, Giacomo Trecur. Nel 31 sappiamo che si recò a Roma, dove ebbe modo di osservare Raffaello e a Parma, dove guardò Correggio, dove guardò Parmigianino, ma da subito emergono nei suoi dipinti, la sua insofferenza per i modelli tradizionali e una libertà interpretativa che resta difficilissima da spiegare dal punto di vista storico-artistico. I suoi riferimenti, i suoi modelli sono certamente Lotto, Luini, Moroni, Ghislandi, ma anche i maestri del Settecento e in particolare io qua punterei, diciamo, l'obiettivo sulle influenze francesi nell'opera del Piccio, ad esempio della Croix, ad esempio Corot, ma anche Fragonard, anche i maestri del Roccocò, che lui guardò con attenzione probabilmente anche durante un viaggio a Parigi. Un viaggio a Parigi che non è documentato in alcun modo, che la tradizione vuole che il Piccio abbia compiuto insieme a Trecur andandoci a piedi nella capitale francese. Piccio era un grande camminatore, un personaggio anche dal punto di vista umano assolutamente straordinario e anche la sua morte sarà un po' fuori dal comune perché nel 1873 scomparirà annegando nel Po dove si era immerso per un bagno e verrà ritrovato tre giorni dopo la sua scomparsa. Ovviamente quindi il tasso di leggenda, di mito intorno alla figura del Piccio è altissimo, ma soprattutto è la sua pittura che a noi interessa in questo momento ben più che la sua personalità. È straordinaria la sua capacità di aver introdotto nella pittura italiana alcuni elementi degni di un'attenta riflessione. La pennellata libera, il tocco vibrante, l'annullamento del contorno della figura, ma anche fondamentale la trattazione molto simile fra sfondo e primo piano. Una delle grandi regole della pittura accademica era quella di modificare il tocco a seconda del pezzo di quadro, dell'elemento pittorico che si stava dipingendo e soprattutto nei canoni romantici c'era un senso della composizione, della narrazione molto ben codificato. Basterebbe mettere a confronto i suoi lavori con quelli di Francesco Hayez che è l'icona del romanticismo italiano, l'indiscusso maestro del romanticismo italiano e ne rappresenta pieno anche le caratteristiche e le modalità espressive. Guardate opere come questa di Hayez o come quella di prima, i due foscari, o questa che è i Vespri siciliani e vi renderete conto che la pittura di Hayez è una pittura sontuosa, è una pittura che rinnova nel profondo il genere storico rispetto a quello che era nel neoclassicismo ma che di per sé noi possiamo perfettamente identificare con il nennovero, diciamo così, dei pittori romantici, anzi il grande padre del romanticismo italiano. E se noi guardiamo invece la pala per Alzano Lombardo realizzata dal Piccio ci rendiamo conto di quanta diversità c'è fra le due ricerche. Giovanni Carnovali realizza questa tormentatissima pala con una gestazione faticosa. Quando la presenta alla parrocchia di Alzano dove avrebbe dovuto essere esposta viene rifiutata perché è pensata come assolutamente anomala perché non compresa nella pittura, nel tocco, nel modo di trattare le figure, persino nel senso compositivo. Del resto Piccio trattava tutti i soggetti nella medesima maniera. Anche in questo c'è una novità straordinariamente importante che fossero paesaggi, bagnanti, ritratti, scene di genere, opere religiose. Per Piccio il tocco e il fatto pittorico era comunque sempre centrale. E guardate ad esempio questa fuga in Egitto. Oltre al quasi ruolo marginale dei personaggi sacri, perché di fronte noi ci troviamo un bellissimo paesaggio, come Piccio ne dipinse tra l'altro, di paesaggi assoluti, esclusivi, quasi alla maniera di Barbizon, con queste figurine che si introducono come un elemento pittorico che ha un peso pittorico più che un peso narrativo di straordinaria importanza. Ecco quindi che nella sua idea c'è già un concetto innovativo di pittura anche nella trattazione iconografica dei soggetti scelti. Guardate questo bellissimo ritratto femminile, un'opera che potremmo quasi confondere con un'opera molto più tarda, un'opera che sente già qualcosa dell'impressionismo francese. In realtà non è così. I modelli di Piccio vengono piuttosto da Fragonard, da Roccocò, dalla pittura cromatica di Delacroix, che è molto presente nel linguaggio del Carnovali. E abbiamo questa immediatezza, questa incredibile capacità di riportare delle emozioni, delle verità, degli istinti, degli attimi di vita, coniugati soprattutto a questo tocco inspiegabile, originalissimo e di straordinaria efficacia, soprattutto dal punto di vista cromatico, delle trasparenze, dell'utilizzo di alcuni tocchi di colore che sono altamente risolutivi. Questa è un'opera visionaria che è esposta in mostra, si chiama L'adorazione del vitello d'oro. Vedete già da voi guardando questo lavoro come la pittura di Piccio, sia che sia nel bozzetto preparatorio, nel quadro di piccole dimensioni, sì che sia invece nel quadro già risolto, a parte forse i ritratti che appartengono un po' più a un genere altro, per il resto è totalmente fuori contesto. Piccio è la grande anomalia del romanticismo italiano e come tale raccoglie immediatamente l'attenzione di Tranquillo Cremona e di tutti quegli artisti che avevano un po' più di occhio e di volontà di rompere gli schemi anche nella scuola, diciamo, italiana, nord italiana. In particolar modo sottolineerei il ruolo di Pavia, perché Pavia era tutt'altro che una cittadina provinciale in quegli anni dell'Ottocento, anzi aveva una scuola di pittura molto interessante che rivaleggiava in qualche modo con Brera. Nella scuola di pittura sarà insegnante a lungo un caro amico del Piccio, Trecour. Trecour è stato un pittore anche lui di impronta romantica, anche lui caratterizzato in alcuni quadri l'impronta, diciamo, più libera si coglie a pieno. Questo è un quadro che ha un trionfo del romanticismo, Byron che guarda le rovine greche, quindi il poeta romantico per eccellenza, uno dei grandi eroi dell'idea romantica di poeta, di letterato, che viene raccontato nel momento della sua scelta di andare in Grecia e spendersi per la libertà del popolo greco contro i turchi. Questo quadro che è romantico nel soggetto, nella trattazione, mostra comunque quella libertà, quella uscire dagli schemi che in effetti nel Piccio è all'ennesima potenza, ma che noi rintracciamo quella anche nel professor Trecour, che fu tutt'altro che un cattivo professore, proprio perché è un artista che è stato in grado di comprendere il Piccio, di esserne amico, trasmetterà poi ai suoi giovani allievi, tra cui c'è anche Tranquillo Cremona, sicuramente un istinto di novità, un istinto verso anche un po' la libertà creativa, sebbene Cremona fra Trecour e il Piccio preferiva decisamente il Carnoval, il Piccio e ne ostentava la preferenza, tanto è vero che nella pittura del Piccio affonderanno buone parti delle radici della pittura di Tranquillo Cremona. Ma Cremona non era il solo che a Pavia desiderava, diciamo così, uscire dagli insegnamenti accademici e superare anche il maestro Trecour in una direzione di nuovo e di moderno. C'era un suo caro amico, più vecchio di lui di qualche anno, che condividerà con lui la scoperta del Piccio e che condividerà con lui i primi anni di ribellione nella scuola di d'arte di Pavia. Lui è Federico Faruffini, il secondo e indispensabile riferimento per la pittura scapigliata. Tranquillo Cremona era nato nel 37, Faruffini era nato nel 33, quindi i due sono, diciamo, Cremona era di quattro anni più giovane, ma comunque appartengono alla stessa generazione. Faruffini era figlio di un farmacista, un farmacista benestante, che lo aveva indirizzato verso gli studi di giurisprudenza all'Università di Pavia. Era nato a Sesto San Giovanni, ma viveva a Pavia dal 48. Intanto però Federico si dedicava alla pittura, che era la sua vera passione, e frequentava appunto le lezioni di Trecourt con, diciamo, nelle stesse aule di Tranquillo Cremona. Il dramma di Faruffini è quello di avere una personalità irrisolta, una personalità dolorosamente inquieta, che lo condurrà al suicidio nel 69, quando ingerirà del cianuro togliendosi la vita, dopo una breve esistenza di insoddisfazioni e di presunti fallimenti. In realtà Faruffini non è un artista fallimentare, tutt'altro. La sua pittura è destinata ad essere un anello di congiunzione indispensabile, un punto di non ritorno della cultura figurativa italiana, e la sua personalità è importantissima per la futura evoluzione di alcuni soggetti, su tutto quello storico, ma non soltanto. Ma Faruffini è un irrisolto, è sempre pronto a non riconoscere i propri successi e a voler sempre rimettersi alla prova, cercare altro. Cercando se stesso un po' ovunque, mai stabile, andrà a Parigi a tentare la fortuna, dopo essere stato a Milano, e poi cercherà il proprio mondo, la propria identità a Roma, addirittura dedicandosi alla fotografia invece che alla pittura, e infine a Perugia, dove concluderà la sua breve, fulminante e disperata vita. Federico Faruffini è sicuramente uno degli artisti più affascinanti dell'Ottocento italiano, e anche lui gioca un ruolo determinante nella formazione dell'idea di arte scapigliata, della pittura scapigliata. Questo che vedete in questa fotografia è un suo autoritratto, bellissimo, straordinario, forse sufficiente a farci capire la forza espressiva e il personaggio Federico Faruffini. Ma non soltanto. Federico Faruffini ha anche realizzato delle opere che sono iconiche, profondamente iconiche per il periodo storico che stiamo indagando, come ad esempio Clara, la lettrice, il ritratto della sua fidanzata impegnata nella lettura di un romanzo. Questo è un quadro sconcertante, perché è un quadro degli anni Sessanta, e un quadro con una datazione simile lascia interdetti per la sua modernità e per questa idea così contemporanea di immaginario femminile. Clara siede sul suo divano, immersa nella lettura di un romanzo, la sigaretta tra le mani, con questa attitudine così moderna, così contemporanea. Non è una scena di genere classica, non è il ritratto di una fanciulla che avrebbe fatto un pittore romantico. Siamo nel 1864 e Clara presenta già un elemento di modernità, di emancipazione femminile, di coscienza femminile molto forte. Questo tema della nuova identità femminile nella scapigliatura lo esploreremo meglio insieme ad Alessandro, anche grazie alle parole degli scrittori. Ma per ora teniamoci qua a questo concetto e proviamo a guardare invece il tipo di pittura di Faruffini. Il tocco meraviglioso di quell'azzurro che definisce la copertina del libro, il bagliore di luce sulle pagine del volume, l'orecchino trasparente quasi vermeriano che richiama la luce sul volto della ragazza e poi proprio la messa in scena di questo momento vissuto. La brocca con l'acqua, le violette nel bicchiere, la pila di libri, la candela pronta nel momento in cui calerà la luce e Clara vorrà continuare a leggere i romanzi. La lettura del romanzo era già di per sé un atto di emancipazione e non da poco per una donna dell'Ottocento. Anche questo lo vedremo meglio con le pagine della letteratura. E poi Faruffini, vicino a questi quadri così moderni, esplorava le possibilità della pittura di storia. Questo sacrificio della Vergine al Nilo in questo immaginifico, un po' così fantasioso Egitto è importantissimo per capire che cosa stava facendo Faruffini nella pittura di storia. stava cercando di portarla verso lì di differenti da quelli romantici, aieziani, ma anche di quelli della generazione, della pittura del vero, per intenderci la generazione dei macchiaioli, ma a Milano anche dei fratelli d'uno, quindi di pittori completamente diversi nell'indole e nella ricerca. Ora, questo sacrificio della Vergine al Nilo è molto interessante perché quella figura femminile ci risveglia, tra l'altro, una connotazione che noi dobbiamo tenere ben presente dalla scapigliatura, che è il riferimento non alla Francia, ma all'Inghilterra. La presenza, lo vedremo meglio, anche nella pittura di Cremona e di Ranzoni, ai pre-Raffaelliti e al clima inglese, è molto molto importante. Quindi i riferimenti non sono francofoni, ma anglofoni molto spesso in questi pittori e va assolutamente sottolineato. Anche in Cunizza e Sordello, Faruffini mostra la stessa volontà di rivisitare i canoni della pittura di storia in una direzione diversa, che è ancora figlia del romanticismo, ma che spinge già in un'altra direzione. In questo caso, tra l'altro, si avventura su un mondo che poi sarà il tipico mondo dell'amico Tranquillo Cremona, cioè l'intimità di coppia, in questo caso una coppia letteraria, che poi diventerà invece la coppia semplicemente di immaginario sentimentale della pittura dell'amico Tranquillo Cremona, che sull'idea di sentimento e di vita di coppia fonderà un elemento fortissimo della propria ricerca. In mostra di Faruffini abbiamo due opere molto significative. Una suonatrice di liuto, splendida, elegantissima, guardate anche la tavolozza, la trattazione cromatica, certe libertà di tocco che Faruffini si permette, che escono violentissimamente proprio dai canoni pittorici del tempo, e un'immagine abbastanza anomala di un gruppo di armigeri, dove Faruffini addirittura sembra spingere verso un elemento di dinamicità, di movimento che prelude ampiamente tutte le ricerche poi degli amici scapigliati. E risente profondamente della lezione di Faruffini anche l'amico Tranquillo Cremona, come ben dimostra questo lavoro, Amaro Calice, uno dei dipinti di un Cremona ancora giovane, ma già dalla forte personalità. Notate la firma così ingombrante, così incombente, giusto per definire anche il carattere di Tranquillo Cremona, che fu un leader, il leader del movimento scapigliato in pittura, e indubitabilmente il suo fondatore. Anche se poi la critica si divide fra chi preferisce Daniele Ranzoni con il suo pathos, con la sua intimità, con la sua lettura psicologica del soggetto, e chi invece apprezza la qualità tecnica e la novità insita nella pittura di Tranquillo Cremona, è comunque in dubbio che Cremona fu il fondatore della scapigliatura pittorica. Lui era nato nel 1837 a Pavia, si era formato alla scuola di pittura di Pavia, appunto come vi dicevo, con tre cours, e poi era andato a fare un soggiorno di formazione a Venezia, dove aveva studiato all'Accademia. Poi conclude i suoi studi nelle aule di Brera con Giuseppe Bertini. Il suo esordio comincia proprio nell'ambito storico letterario, non potrebbe essere altrimenti, essendo uno studente di Brera. Ma qui dobbiamo in qualche modo ricordarci che Milano, la Milano vissuta dal giovane Tranquillo Cremona, era una Milano in profondo cambiamento. Un po' la Milano che descrisse proprio Cretto Arrighi nella scapigliatura il 6 febbraio. Una città in evoluzione, una città che sta cercando un nuovo ruolo, un proprio ruolo nell'Italia unita, una città culturalmente molto fertile, molto avanti, ma socialmente molto complessa. Non esiste più, per intenderci, la Milano di Canella, di Inganni, di Bisi. Peraltro, questa Milano, quella che ha il Duomo come epicentro, come centro, diciamo come cuore pulsante della città, non esiste più neanche dal punto di vista urbanistico, geografico, perché gli artisti si stanno spostando, si spostano nei quartieri di Brera. Lo stesso Tranquillo Cremona avrà diversi atelier che seguiranno un po' le tendenze, diciamo, dell'influenza artistica dei quartieri milanesi. E i suoi studi saranno sempre un po' dei luoghi di ritrovo per gli scapigliati. e vicino agli studi le osterie del territorio, quindi la scapigliatura come tutti i movimenti moderni non nasce intanto nelle aure dell'accademia, ma nasce nelle trattorie, nei bar, nei luoghi di ritrovo della città. Di giorno si sta in studio a ascoltare e guardare Cremona che dipinge, la sera ci si trasferisce nel tardo pomeriggio nelle osterie dove si passa il resto della giornata sempre e comunque in discussioni artistiche e culturali ma anche in momenti di gogliardia. Questa non è una novità, mi succedeva già alla metà del secolo anche prima, è sempre stato un caffè a generare i movimenti artistici dell'Ottocento, pensate al caffè Michelangelo per la macchia, pensate al Nouvelle Atene, al Gerbois per l'impressionismo e a Milano i caffè e le osterie erano numerosissimi e gli scapigliati li frequentavano un po' tutti. Non è più quindi la Milano di Piazza del Duomo, la Milano dei vedutisti milanesi romantici e forse non è più neanche la Milano dei fratelli Induno, la Milano che crede ancora nell'Italia Unita o addirittura nell'ipotesi di Garibaldi, Daniele Ranzoni voleva ruolarsi con Garibaldi, tranquillo Cremona gli disse di restare a Milano, di fare il pittore, di non giocarsi la propria esistenza diciamo diventando un soldato destinato probabilmente a essere ucciso al fronte. Ecco che è cambiato proprio il pensare della generazione, una generazione che non è più quella dei pittori soldati come era Gerolamo Induno, come erano in generale gli artisti di quella generazione a partire dagli stessi macchiaioli, è una generazione diversa quella degli scapigliati, più legata a un contesto che definirei bohemien, perché in realtà la scapigliatura fu la bohème italiana e gli scapigliati ci tenevano molto a questo, avevano tra i libri di riferimento Storie della vita di bohème di Henri Mourget che era uscito qualche decennio prima in Francia e che aveva definito in realtà in maniera inequivocabile il concetto di bohème, quindi di questa ribellione antiborghese che fu proprio esattamente quella dei nostri scapigliati. Ovviamente trasportata da Parigi a Milano cambia è ovvio dal punto di vista delle consuetudini, cambia dal punto di vista dell'identità, ma il concetto è il medesimo e anche pittoricamente non siamo più né nella narrazione umile ma comunque sensibile, diciamo anche un po' tutto sommato pietistica della pittura dei fratelli in duno e non siamo più nemmeno tanto meno nell'alveo del romanticismo pieno come appunto nel vedutismo dei vari Canella inganni e migliara. La pittura scapigliata esce da tutto questo e nonostante venga fuori dalle aure di Giuseppe Bertini che è il nuovo Aiez, il nuovo professore per eccellenza dell'Accademia di Brera, Bertini fu maestro dei più grandi artisti bisogna dargli atto di questa cosa dei più grandi artisti dell'ottocento italiano fu professore di Cremona di Segantini di Previati di tutti veramente i grandi protagonisti della scena artistica italiana del secondo ottocento e Bertini era un professore romantico era un professore ancora vecchio stampo un aieziano ma attenzione evidentemente qualcosa nella sua modo di insegnare aveva altrimenti non avrebbe generato questa generazione questo gruppo di artisti così innovativi e tranquillo Cremona l'innovazione nei primi quadri la cerca ovviamente nei soggetti che gli sono familiari come questo bellissimo falconiere con la sua dama che traduce il tema storico trasportandolo però in un altro contesto vedete un po' come il sordello e cunizza di Faruffini cioè la storia la letteratura questo concetto di opera dal soggetto storicista medievaleggiante è trasportato in una dimensione intima privata che non fa riferimento necessariamente a un elemento letterario a un testo a un personaggio come poteva essere il personaggio dantesco piuttosto che shakespeariano ma diventa quasi un'immagine di sentimento amoroso che fa che ha l'eco della pittura di storia classica ma vedete che se Hayez metteva i comprimari con questi cori verdiani che Hayez metteva in scena e anche là dove non mette i comprimari come ad esempio in accusa segreta dove c'è solo lei fortissima della sua personalità molto espressiva beh anche in questo caso Hayez è comunque un grande narratore un grande regista teatrale e invece qui Tranquillo Cremona si focalizza su un sentimento sulla dolcezza di questa coppia il simbolo del falco la mascolinità di lui la fragilità di lei un soggetto che lasciò molto interdetta la critica del tempo che cominciò ad accusare soprattutto i più conservatori Cremona di essere un potenziale corruttore di pittori perché la sua pittura usciva totalmente dagli schemi dell'arte storica sia dal punto di vista dell'iconografia sia dal punto di vista dello stile anche Amaro Calice che vi mostravo prima è molto innovativo Amaro Calice potrebbe essere il ritratto di una fanciulla o un quadro di genere ma quel titolo Amaro Calice lo porta a un contesto invece letterario molto più tormentato molto più inquieto pur essendo di fatto semplicemente il ritratto di una fanciulla con un bicchiere in mano notate peraltro l'uso di quel verde si parlava di Inghilterra ecco quel verde proprio inglese ha una ascendenza anglofona incredibile nella tavolozza del pittore c'è questo elemento ma il nostro falconiere tornando al nostro falconiere in realtà il falconiere è un quadro che abbia molto successo di pubblico tanto è vero che Tranquillo Cremona lo bissò più volte e ne esistono altre versioni questa è una versione che sta in mostra una versione più tarda ed è una versione che ci fa capire come i quadri di Cremona magari venivano un po' messi in dubbio diciamo così dalla critica ufficiale ma non erano così sgraditi a tutto il pubblico che in realtà imparò ad apprezzare questo tipo di soggetti cremoniali il quadro il quadro con cui Tranquillo Cremona però si fa notare bene nel male dalla brera del tempo è il Marco Polo Marco Polo si chiama in realtà Marco Polo presentato dal suo padre a Kubilai Gran Can dei Tartari è un'opera del 1863 che oggi si trova alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma naturalmente io in questo incontro vi sto facendo vedere opere che sono in mostra e opere che non sono in mostra all'ecco proprio per darvi un quadro più completo del movimento scapigliato che poi avrete modo di vedere quando la mostra riaprirà speriamo presto dal vero in alcuni casi o vedere opere che non vi ho mai mostrato e scoprire quindi nuovi capolavori del movimento ora questo Marco Polo suscitò le ostilità e i dubbi di buona parte della critica attenzione perché vi dicevo che la scapigliatura è anche letteraria anzi noi volendo dire il vero a scuola la studiamo per la letteratura la scapigliatura ben raramente ci dedichiamo alla scapigliatura per il versante pittorico ecco capita non così di frequente ma la la letteratura scapigliata che ha dei punti in contatto forti con la pittura ma anche delle diversità che esploreremo nel prossimo incontro non sempre parteggiava per la pittura scapigliata anzi grandi letterati come Boito e Rovani che erano pienamente scapigliati e che avrebbero dovuto essere i primi a capire la lezione di Tranquillo Cremona e Ranzoni in realtà molto spesso non capivano dubitavano erano scettici ad esempio leggiamo che cosa scrive Camillo Boito riguardo al Marco Polo scrive il Gran Khan era certissimamente un valentuomo lo scrive nella Perseveranza quando il quadro viene esposto a Brera ma egli e i suoi mongoli sono figure tanto grottesche da non poter essere pigliate sul serio lasciamo stare le vesti gli accessori il fondo che si possono trovare almeno in parte nelle storie universali degli usi e dei costumi guardiamo soltanto le tre figure umane del quadro i Polo Marco è lungo il stecchito allampanato il padre è un drappo rosso gettato sopra un manichino l'altro non sa che fare di una persona e abbassa il capo per non picchiarlo sotto al padiglione quanto al colore non è terminato e noi non ne vogliamo dire male anche Ghisodanzoni altra grande personalità della scapigliatura librettista peraltro molto vicino agli ambienti lecchesi in cui la scapigliatura ebbe una una certa fioritura non approvò il dipinto e ne disprezzò soprattutto il tema e sulla pagina della Lombardia si chiede come Cremona abbia potuto spaziare col pennello compiacente fra tanti grugni animaleschi più da scimmia che da essere ragionevoli e chiude augurandosi che Cremona non sprechi più il proprio talento sopra un tema infelice dunque il Marco Polo che è il quadro della rivelazione dell'artista in realtà lo porta ad essere travolto da un numero importante di critiche il quadro non è compreso e forse nemmeno comprensibile ma l'opera che veramente portò Cremona in vista in maniera evidentissima dalla critica del tempo e che è un po' considerata come l'opera che in qualche modo rivela anche lo stile scapigliato è la bellissima I due cugini in questo caso la rivelazione è ancora più potente perché se nel Falcognere e nel Marco Polo c'era ancora la ricerca di un soggetto storico si inseguiva quantomeno ancora una vocazione storico-letteraria nei due cugini Tranquillo Cremona va invece a sfatare anche la possibilità di un'iconografia storica scegliendo una coppia di bimbi adorabili e già impostando quello che poi di fatto sarà un elemento fondante della sua ricerca pittorica c'è questa relazione fra il maschile e il femminile molto spesso sbilanciata sul femminile perché nei quadri di Cremona e lo vedremo nel prossimo incontro molto spesso è la donna l'elemento di forza quella che in qualche modo decide le sorti dell'amore di coppia quindi anche in questo c'è un ribaltamento incredibile rispetto al romanticismo in cui si amavano molto le eroine languide o le donne che avevano pagato sulla propria pelle con ingiustizie che magari loro poi arrivavano a vendicare come Pia dei Tolomei piuttosto che come la ragazza dell'accusa segreta di Hayez come Giulietta Romeo come Paolo e Francesca cioè coppie in cui la figura femminile ha un ruolo spesso di vittima magari vittima che si vuole vendicare come nell'accusa segreta ma comunque vittima invece nella scapigliatura la donna acquisisce un'idea di sé una forza e anche una emancipazione e libertà notevolissime le vedremo poi meglio nel prossimo incontro e qui appunto in questi due bellissimi cuginetti c'è la immediatezza la quotidianità di un dipinto che non racconta un brano di letteratura di storia ma semplicemente un gesto d'affetto un elemento sentimentale e lo fa con una pittura che ormai vedete è libera non ci sono più i contorni delle figure i capelli di lei sfumano verso lo sfondo i capelli di lui si confondono anche loro con il secondo piano le due figure stesse non hanno contorni Tranquillo Cremona si sta avventurando in un tipo di pittura che possiamo capire perché spaventava la critica ufficiale perché si diceva che potesse corrompere i giovani pittori nessuno mai aveva tradito così l'idea di disegno che è fondante nella tradizione accademica ed è fondante anche nel percorso che un artista avrebbe dovuto fare soprattutto artisti che escono da un'accademia con una tradizione aieziana potentissima come quella di Brera arrivare a dipingere un'opera che esce così dai canoni che si stacca così potentemente da quello che l'aveva preceduta è qualcosa di veramente straordinario Tranquillo Cremona del resto ci teneva a dare di sé anche un'immagine di rottura un'immagine fuori dagli schemi esiste alla Galleria d'Arte Moderna un quadro splendido dipinto da Eugenio Ginius che è un pittore che poi si dedicò molto al paesaggio fu uno dei grandi un po' naturalisti del Lombardi della seconda generazione per favore non chiamiamoli impressionisti come spesso si fa ma naturalisti sì comunque paesaggisti della nuova generazione di artisti Lombardi dell'ultima fase dell'ottocento Ginius era vicino di casa di Tranquillo Cremona non fu esattamente uno scapigliato anche perché il suo interesse per il paesaggio lo allontanava da un movimento che di paesaggio non si occupò più di tanto ma Ginius realizzava spesso per Cremona degli sfondi pare lo aiutasse proprio nella gestione degli sfondi dei dipinti e poi realizza questo ritratto di Cremona che già di per sé ci dice tutto della personalità di questo maestro dipingeva seduto per terra fuori dallo studio non per il plein air non perché fosse interessato alla luce reale ma perché nello studio c'era così tanta roba così tanto caos che lui non riusciva a districarsi nelle cose che aveva in giro e quindi andava a dipingere in cortile e vedete questa immagine sconcertante per un accademico del tempo devo dire devastante c'è un pittore che dipinge seduto per terra su una cassettina con il quadro per terra quindi tutti i cliché i bontoni i codici del buon pittore vanno a farsi benedire con questa modalità di dipingere così non ufficiale così fuori dai canoni e dipinge con la mano sinistra e su questo si è sviluppata tutta una leggenda che non si sa quanto fondata ma in realtà quando ci sono leggende di questo tipo qualcosa di vero c'è quasi sempre tranquillo Cremona pare infatti dipingesse con la sinistra per controllare meglio il gesto pittorico perché con la destra la sua mano naturale aveva talmente tanta libertà di tocco ed era così abile e così rapido nel dipingere così talentuoso che spesso preferiva appunto darsi più problemi per controllare meglio per ragionare meglio su quello che stava realizzando quasi un virtuosismo cercato e non richiesto che tranquillo Cremona adottava per una sorta di disciplina di ricerca di sperimentazione tutta sua qual di là di questi elementi su Cremona ci sono tante tante leggende tanti aneddoti tanti racconti popolari perché il personaggio si presta molto bene non ultimo quello che vorrebbe Cremona morto per l'intossicazione dal bianco che usava lui morirà nel 1878 e qualcuno dice che morirà perché si puliva il pennello sul braccio e nei bianchi c'era c'è c'è ancora oggi ma allora era un tasso molto più alto una forte presenza di piombo e parrebbe che tranquillo Cremona sia morto proprio da intossicazione qualcuno dice per peritonite le due cose potrebbero anche non essere disgiunte e comunque anche questo il pulirsi il pennello sul braccio aumenta lo sguardo la leggenda su questo artista dalla personalità così straordinaria tra l'altro lui in questo dipinto vedete sta realizzando un ritratto è il ritratto di Junk che noi abbiamo poi veramente realizzato ed è esposto a Torino alla Galleria d'Arte Moderna di Torino questo bellissimo ritratto maschile con Benedetto Junk amico mecenate committente di Tranquillo Cremona lui aveva anche L'edera tra i quadri di sua proprietà uno dei grandi capolavori di Cremona di cui parleremo più avanti e vedete che nella figura di Benedetto Junk c'è tutto quel tratto quel tocco libero straordinario che viene da piccio ovviamente ma rielaborato in una nuova direzione in cui si perde il contorno della figura in cui il primo e il secondo piano sembrano sovrapporsi in cui lo sfondo non è più sfondo ma diventa parte parte in qualche modo del medesimo pensiero pittorico della figura in primo piano anche questo era già un elemento del Carnovali e vedete tra l'altro l'uso di questi blu di questi bianchi che caratterizzeranno sempre la pittura di Tranquillo Cremona per tutta la sua vita non lunga purtroppo ma piuttosto produttiva e insieme a lui proprio in questi anni si avvicina a uno stile scapigliato il giovane Daniele Ranzoni un'altra anima persa un altro pittore difficilissimo dal punto di vista caratteriale anche lui un irrisolto in modo meno violento ed evidente di Faruffini ma anche lui un artista molto molto doloroso e incapace di sopravvivere a se stesso Ranzoni era nato nel 43 era più giovane di Tranquillo Cremona che lo sosterrà sempre anzi lo guiderà soprattutto nei primi anni nella ricerca di una propria identità pittorica era nato ad Intra a Ranzoni ed era il quarto di sei figli di una famiglia molto modesta fin da bambino aveva rivelato il proprio talento soprattutto nel disegno e quindi era stato mandato a studiare a Brera e poi all'Albertina di Torino e poi al Collegio Caccia di Novara fino a stabilirsi definitivamente a Milano Ranzoni sceglie Milano piuttosto che Torino perché non ha una propensione per il paesaggio all'Accademia di Torino c'era Fontanesi che era un professore importante e aveva dato un po' un'impronta sul paesaggio al mondo piemontese torinese invece Ranzoni sente subito una propensione personale forte verso il mondo della figura e in questo si trova molto bene con l'amico Tranquillo Cremona i due quindi compagni di atelier vicini di casa portano avanti la loro piccola rivoluzione artista in questa giovinetta che vedete sentiamo tutto il peso della pittura inglese di cui vi parlavo di questa istanza un po' pre-Raffaellita chiaramente prendiamo con le pinze questi riferimenti perché non è che scapigliati possono essere definiti pre-Raffaelliti il contesto inglese è talmente particolare che difficilmente può essere riprodotto altrove anche se pittori che vi si interessano non è da poco il sapere che Ranzoni in Inghilterra poi ci andrà lo vedremo più avanti ci andrà perché lo porterà la propria carriera pittorica guidato da Pietro Tubertscoi poi vedremo anche perché e la sua riferimento inglese quindi si coniuga in modo sempre più esplicito ed evidente alle ricerche compiute negli stessi anni dall'amico Tranquillo Cremona nasce così la scapigliatura pittorica con questi due pittori che amavano definirsi i nani giganti perché erano piccoli di statura ma alti dal punto di vista morale quindi ironicamente si definivano i nani giganti della cultura italiana e non erano solo in due però erano in tre i nani giganti perché il terzo protagonista della nascita dell'arte scapigliata è uno scultore Giuseppe Grandi che sarà poi molto noto per altri motivi per un motivo pubblico il monumento alle cinque giornate di Milano che è l'opera più importante che Grandi abbia realizzato e andremo a vederci adesso qualcosa anche di questo terzo protagonista del movimento non è facile tradurre nella materia le istanze pittoriche di Cremone di Ranzoni il concetto di annullare i contorni di smaterializzare la figura se portato nell'ambito della scultura sono concetti molto complicati da realizzare ma Grandi tentò ugualmente la sua rivoluzione e lo fece con opere di straordinaria importanza credo che se l'importanza di Cremone Ranzoni sulla scena artistica italiana della fine dell'ottocento sia ancora sottovalutata quella di Grandi lo è ancora di più non si tiene mai abbastanza presente che Giuseppe Grandi fu la radice su cui crebbe ad esempio la straordinaria personalità di Medardo Rosso ma in generale tutti gli scultori della generazione successiva destinati a portare poi l'opera plastica in una direzione di grande modernità di ricerca sul vero sociale o sul liberty da Bazzaro fino appunto allo stesso Medardo Rosso passando poi per Trubetzcoi che da Grandi arriva direttamente diciamo si dimentica sempre di quanto sia importante il riferimento a Giuseppe Grandi per questi artisti poi così stimati e così raccontati dalla storia dell'arte chi era Giuseppe Grandi Giuseppe Grandi aveva studiato a Torino all'Albertina con Odoardo Tabacchi e di Tabacchi si sentono le tracce soprattutto nelle sue prime opere aveva scandalizzato con una santa tecla realizzata su commissione della fabbrica del Duomo perché aveva rappresentato la santa con un seno nudo parzialmente coperto dai capelli spettinati ma già nel 66 aveva poi vinto il concorso Luigi Canonica con un Ulisse in atto di tendere l'arco che rispondeva meglio ai canoni diciamo così della scultura della tradizione la lezione di Tabacchi come vi dicevo in questi primi lavori milanesi è ancora piuttosto evidente e lo è anche nel monumento a Cesare Beccaria che egli aveva scolpito nel 1870 realizzandolo per l'omonima piazza milanese il Beccaria presenta qualche novità comunque nella ricerca di effetti di luce e ombra nel tentativo di muovere le superfici nella ricerca di una vitalità di una spontaneità nella posa della figura ed è notevole la scelta della naturalezza della posa che non è quella rigida prevista dalle consuetudini dei monumenti celebrativi ma qualcosa di molto diverso queste ricerche vengono approfondite poi nel paggio di Lara detto anche Khaled personaggio bayroniano che Grandi espose a Brera nel 1873 in questo caso la figura scalda gli animi della critica ufficiale perché Grandi conduce la scultura con un gesto pittorico modellando guardate l'abito quanta libertà quanta dinamicità e con esiti che sembrano veramente preludere i futuri sviluppi della scultura del novecento e sculture successive vanno nella medesima direzione anzi approfondiscono le caratteristiche della ricerca scapigliata se voi guardate opere come L'Edera ad esempio che peraltro insiste su un tema identico a quello poi percorso anche da Tranquillo Cremona nel suo dipinto o come ancora di più il maresciallo Nei cominciate a vedere la grande personalità che ebbe Giuseppe Grandi il maresciallo Nei è il suo capolavoro in mostra abbiamo un gesso e un bronzo dedicato appunto a questa a questa iconografia il maresciallo Nei era un maresciallo di Napoleone e fu il capo espiatorio della sconfitta della debacle di Waterloo il capo espiatorio ovviamente per squisiti motivi politici che lo portarono ad essere condannato a morte Grandi decide di raccontare questo personaggio storico proprio nel momento della sua condanna quindi lo rappresenta in tutta l'abbandono in tutta la perdita anche quasi di dignità di questo personaggio il cappello che sembra cadere la spada che è usata come un bastone quel mantello che non sta su quella mantella che scivola dalla spalla Nei è l'immagine di un uomo che ha perso è l'immagine della propria disfatta Grandi c'è sceglie un'ipotesi molto umana per raccontare un personaggio storico di nuovo una tendenza completamente diversa a quella a cui ci aveva abituato la statuaria della prima metà dell'ottocento e quanto alla sua ricerca scapigliata dal punto di vista formale linguistico guardate come nelle sue sculture si cerca sempre di dare un senso di movimento di naturalezza di intimità e soprattutto come grandi cerchi di cancellare il contorno della figura di rendere la materia dimentica di sé insisto su questo tema perché quello che poi renderà così importante Medardo Rosso Medardo Rosso non ebbe mai gran voglia di manifestare la propria dipendenza e discendenza dalla scapigliatura anzi segnò spesso la distanza del movimento per motivi piuttosto comprensibili di voler uscire da un alveo un po' ristretto è ancora considerato vagamente provinciale come quello scapigliato soprattutto la scapigliatura di seconda generazione cioè quella della famiglia artistica di bignami e via dicendo ecco quindi che al di là di quello che Medardo Rosso voleva sottolineare della propria ricerca pittorica l'impronta del grandi sulla ricerca di Medardo è fondamentale è fondamentale perché grandi fu il primo a pensare alla materia come un gioco di luce di ombre di tocchi di corrosione della materia di perdita della concretezza della materiale scultorio sia esso bronzo terracotta o come sarà in Medardo cera ecco che è chiaro che da un pensiero come quello di grandi non poteva che uscire uno dei monumenti più sconcertanti della storia dei monumenti pubblici italiani originale fino in fondo chiaramente perché quando grandi vinse il concorso per il monumento alle cinque giornate concorso che tra l'altro da tempo cercava un vincitore e alla prima edizione aveva partecipato pensato anche Luigi Conconi altro artista scapigliato di cui noi avremo modo di parlare più avanti questo monumento grandi lo vinse non per meriti specifici ma perché alla fine non si trovava bene un vincitore venne attribuito a grandi tra non poche polemiche ma il pensiero di grandi è fulminante e esce completamente dai canoni del monumento celebrativo risorgimentale l'obelisco così statico così imponente circondato da questa dinamica o grumo di figure dove ci sono delle figure femminili simboliche ma anche degli animali un leone e un'aquila che grandi così nella volontà di farli assolutamente realistici arrivò a farsi arrivare un leone con un annesso domatore dall'Africa e un'aquila dall'Austria per riuscire a vedere questi animali dal vero e ritrarli in tutta la loro verità e concretezza anche le figure femminili hanno un'espressione un senso del vero un naturalismo che sarà poi quello che ritroviamo ad esempio in Bazzaro e in altri artisti che porteranno la scultura italiana verso la modernità ora il monumento alle cinque giornate è in un posto di Milano per chi conosce la città veramente infelice perché in mezzo a uno dei rondò più trafficati che ci siano e ben difficilmente si riesce a fermarsi e a guardarne le grandi virtù la notevolissima originalità e questa idea di nuovo che anche nella scultura la scapigliatura ha portato in Italia ecco dunque che i tre nani giganti Daniele Ranzoni Tranquillo Cremona e Giuseppe Grandi hanno fondato quello che noi oggi consideriamo il movimento della scapigliatura artistica in stretto contatto e relazione con molti dei critici e letterati del tempo gli scapigliati artisti frequentavano e avevano per committenti molto spesso l'aristocrazia dell'epoca o benestanti stanchi di assecondare cliché e consuetudini propri delle generazioni precedenti l'aristocrazia di cui stiamo parlando non è un'aristocrazia classica noi vedremo nel prossimo incontro ad esempio la figura di Carlo Alberto Pisani Dossi figura straordinariamente importante l'unico critico che abbia veramente capito la lezione innovativa degli scapigliati e che l'abbia sempre comunque sostenuta anche quando gli spigoli e le diciamo gli elementi di rivoluzione erano più profondi e più forti ma non soltanto Carlo Pisani Dossi ma tutta una serie di personaggi rappresentanti di una nuova identità sociale di una nuova aristocrazia basterebbe questo ritratto di Nicola Massa per renderci conto di che cosa stiamo parlando questo ritratto meraviglioso di Tranquillo Cremona che sta in Musei Civici di Pavia e che rappresenta questo aristocratico in tutta la sua spocchia un dandy antelitteram guardate come si sente già quell'idea di dendismo che poi sarà un po' tipico delle generazioni successive con Nicola Massa che sperperò la fortuna di famiglia tra gioco d'azzardo lupanari e divertimenti vari è la quintessenza di una generazione di aristocratici che ad andar bene vuole cambiare il concetto stesso di rito di classe di rito sociale di tradizioni e consuetudini di una classe sociale e ad andar male come il nostro Nicola sperpera le ricchezze di famiglia in divertimenti e vita da bohème di questa nuova classe sociale fa parte anche una famiglia indispensabile per l'evoluzione della pittura scapigliata i trubezcoi di cui parleremo meglio nel prossimo incontro soprattutto lei Ada una dei grandi mecenati della scapigliatura nonché la donna amata incondizionatamente da Daniele Ranzoni nella loro villa Villa Ada a Ghiffa più volte ritratta dagli scapigliati in particolare da Ranzoni Ada accoglieva Daniele come tutore dei propri figli che diventeranno non a caso artisti Pier e Paolo Trubezcoi e il piccolo Gigi e accoglierà tutti gli scapigliati in una sorta di circolo culturale e artistico profondamente significativo per capire il clima che genera la scapigliatura da una parte la ricerca di un'identità bohème quindi di personaggi che vivono nelle soffitte e frequentano le osterie dall'altra l'apporto incondizionato e necessario di una classe alta che travolta si fa addirittura esponente della scapigliatura come nel caso di Carlo Dossi altre volte invece ne diventa prezioso mentore e mecenate come nel caso dei Trubezcoi o più avanti della Saint-Léger a un'altra esponente dell'aristocrazia del tempo votata al sostegno dell'arte e della cultura ma di questi temi parleremo però meglio nel nostro prossimo incontro per oggi nella prima analisi nel primo sguardo sul movimento scapigliato ci fermiamo qua grazie a tutti Grazie a tutti